Altro piccolo tassello e discreto passo in avanti per la Nottolini di Meri Malucchi che dopo aver battuto Porcarivolle e Calenzano ha giunto all'elenco degli scalpi estivi la Fenice Pistoia. Una gara che di fatto ha concluso il trittico di Amichevoli e la prima fase della preparazione parziale a favore delle Capannoresi 25-19, 25-21, 25-22, 22-25. Le due squadre hanno infatti deciso di giocare 4-7. Maela Venturi e compagni hanno fatto vedere qualcosa in più e di meglio sotto il profilo tecnico ma sanno benissimo che per assimilare schemi e condizione fisica ci sarà ancora da lavorare tanto. Nel frattempo, come si usa dire, si comincia ad alzare l'asticella. Amichevole, martedì 19-20, 45, ancora al palapiaggia, contro la pallabolo Versilia che pure milita in B2 ma col chiaro intento di fare un campionato da protagonista e nelle cui file gioca l'indimenticabile ex Erika Mutti. Brutte notizie giungono invece dall'infermeria per gli infortuni al ginocchio corso in allenamento alla schiacciatrice Sara Zarattini. Solo nelle prossime ore se ne conoscerà la precisa entità con il forte auspicio che non si tratti di nulla di serio. Comunque vada l'esito, la società non ha intenzionato a tornare sul mercato.